Continuiamo a parlare di impegno missionario, lo vogliamo fare attraverso l'esperienza di un giovane medico, la dottoressa Giussi Russo, che ha deciso di donare la sua vita, la sua professione, per una missione molto più alta, che la vedrà protagonista in terra d'Africa. È con noi collegata. Buongiorno Giussi, grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie a voi. Allora, giovedì 22 febbraio c'è stata la consegna del mandato missionario, vedremo adesso le immagini attraverso il sito della diocesi di Acireale, perché Giussi, come dicevamo, è un giovane medico siciliano che ha deciso appunto di donare la sua vita per la missione e anche la sua professione. Allora partirei proprio dall'inizio, Giussi, dottoressa Russo. Da dove nasce questo anelito missionario che è, potremmo dire, insito anche nella tua professione di medico, perché essere medico è anche una vocazione missionaria. Partiamo dall'inizio. Sì, partiamo dall'inizio, quindi andiamo parecchi indietro. Io ero una bambina, insomma, una ragazzina durante le vacanze della prima media. Ho visto in tv il film Mozungu di Giobbe Govatta e da lì, insomma, è nato un po' tutto. Io alla fine del film mi ricordo che dissi io da grande voglio fare il medico in Africa e così ogni decisione poi è stata su questa strada. Non sono entrata subito a medicina, però avevo preso contatti con un'associazione sempre della Diocesi 10 Reale per poter fare la prima esperienza in Africa. Solo per ben due volte il viaggio è un attimino saltato per motivi diversi, però insomma il sogno di continuare, di andare in Africa un giorno è sempre rimasto. Quindi poi sono entrata a medicina e anche lì, insomma, tutto quello che poi ho fatto è stato sulla scia di questa strada un po' segnata. Un segno importante poi l'ho ricevuto anche dal signore a conferma che quello che volevo io era quello che lui già aveva preparato per me e quindi la sicurezza e la certezza di continuare su questa strada. Poi la specializzazione e quindi la volontà anche della direttrice di scuola di specializzazione di farmi seguire il corso del QAM. Infatti io partirò con Medici con l'Africa QAM. Sì, perché tu sei specializzata giusto in igiene e medicina preventiva, giusto? Che è un ambito diciamo molto molto specifico che in Africa potremmo dire davvero ti darà tanto da fare, giusto? Sì, sì, sono specializzata in igiene e medicina preventiva, quindi la salute globale a 360 gradi e appunto Medici con l'Africa QAM, un'NG sanitaria che si occupa di promuovere e tutelare la salute delle popolazioni africane e dà una grandissima opportunità a noi giovani specializzanti, un'opportunità formativa sia teorico pratica. Infatti abbiamo seguito un corso di tre mesi teorico a Padova in sede e adesso la possibilità breve di fare esperienza per sei mesi, nel mio caso in Angola. Sarò inserita in progetti di sanità pubblica, sostegno della salute materno-infantile. È un ambito molto molto importante, noi ne abbiamo parlato diverse volte nelle nostre trasmissioni, soprattutto nell'ambito educativo, c'è tanto bisogno di educazione anche dal punto di vista insomma dell'affettività, sono paesi quelli molto molto particolari. Abbiamo detto anche Giussi, ti chiamo Giussi, non dottoressa perché siamo quasi coetanei, dunque mi risulta un po' difficile. Abbiamo detto che hai ricevuto il mandato missionario pochi giorni fa, stiamo vedendo la notizia appunto sul sito della diocesi di Acireale. Quali sono state le tue emozioni in quel momento, quando potremmo dire che davvero il sogno ha preso concretezza? Quella sera ero da un lato tranquilla, da un lato abbastanza emozionata, quindi non ho realizzato insomma subito che stava per succedere, però avevo con me accanto i sacerdoti che mi hanno seguito insomma nel mio cammino e poi la certezza che era stato insomma il signore a preparare tutto e quindi più che mai quella sera c'è stata la conferma della sua presenza, della sua vicinanza. Quindi tutto quello che si stava finalmente realizzando aveva davvero un peso ancora più importante. Ecco Giussi, magari tanti potrebbero dire c'è bisogno di medici qui in Italia, purtroppo la sanità è carente sotto tanti punti di vista e lei decide, questo giovane medico, di andare in Africa. Da questo punto di vista tu cosa ti sentiresti di rispondere davanti a questa obiezione? Premesso che comunque, come hai avuto modo di dire, c'è stato anche un intervento diciamo ben più alto del nostro da questo punto di vista. Sì, sicuramente è vero, in Italia c'è tantissimo da fare, però è anche vero che si risponde in qualche modo ad una chiamata, si riconosce e ci si mette in cammino, quindi non lo so, mi viene difficile spiegare perché ripeto per me è stata qualcosa di naturale, non ho dovuto pensare, io ricordo la differenza a volte anche con i miei compagni di classe, con i miei colleghi, non so cosa fare, cosa faccio, non so, mi spaventa il buio più totale, io no, io avevo già la mia strada e tutto quello che ho fatto mi è venuto veramente naturale, non ho dovuto pensarci due volte, quindi non lo so, di rispondere qualunque sia la chiamata, in qualsiasi posto ci si trovi a fare il medico di farlo con il cuore, sia in Italia, sia all'estero. E i tuoi genitori e la tua famiglia come ha preso questa notizia? non benissimo all'inizio, però insomma poi anche loro hanno capito, si sono un po' rassegnati all'idea, quindi adesso ho un po' di paura comprensibile, però sono sereni e spero che lo siano per tutti i sei mesi. Sì, in effetti perché tu, ecco l'hai specificato anche adesso, sarai in Africa per sei mesi e dopo? Sì, dopo ritorno in Italia, continuo la specializzazione, mi specializzo e poi ripartirò. Ah bene, quindi un impegno che comunque continuerà con il proseguio degli anni. Senti Giussi, la tua storia è una storia molto molto particolare, lo abbiamo ascoltato. Cosa ti sentiresti di dire ai ragazzi che in qualche maniera, ai giovani che stanno decidendo cosa fare della propria vita, la tua diciamo è un'esperienza totalmente potremmo dire radicale, magari poi altri potrebbero in qualche maniera prendere altre strade con diverse sfumature. Allora quello che vorrei chiederti è a cosa si deve pensare quando bisogna decidere se prendere un bivio o un altro nella propria vita, quando si sceglie un percorso di studio piuttosto uno stato di vita. A partire dalla tua esperienza, tu cosa ti consiglieresti di dire? Di seguire il cuore. Ascoltate il cuore nonostante le difficoltà, insomma i mille problemi che possono venire fuori difficoltà, ostacoli, il non essere a volte anche capiti dagli altri, di seguire comunque il cuore. E se c'è un sogno da portare avanti, crederci fin in fondo, perché possono passare anni, però se questa è la nostra strada, prima o poi quel sogno si avvera. Insomma, sono parole forti, importanti. Siamo quasi in chiusura. Giussi, vorrei ritornare per un attimo sul progetto del quale tu farai parte. Abbiamo detto, il progetto si intitola Junior Project Officer di Medici con l'Africa. Puoi aiutarci un po' a capire questa istituzione, questo ente, di cosa si occupa in particolare? Se fa parte, ovviamente, tu ovviamente farei parte, come abbiamo avuto modo di capire, di una branca dedicata alla tua specializzazione, alla branca in cui ti stai specializzando, ma ci pare di capire che è anche un progetto a 360 gradi. Sì, Medici con l'Africa QAM appunto nasce a Padova nel 1950 ed è un'ONG sanitaria riconosciuta, si occupa di promuovere e tutelare la salute delle popolazioni africane. In particolare, in modo, realizza progetti a lungo termine in un'ottica di sviluppo. Quel CON, Medici con l'Africa QAM, è stato di indicare proprio la stretta vicinanza con la popolazione locale. Ed è una grande opportunità che appunto il QAM dà agli giovani specializzanti di diverse branche e di effettuare un'esperienza importante in terra africana, in uno degli otto paesi in cui sono attivi i loro progetti. In particolar modo io in Angola andrò nella provincia più meridionale, la provincia del Kunene, nello specifico Asciulo, un piccolo villaggio rurale. Lì incontrerò, troverò delle colleghe, una specializzanda in ginecologia e una specializzanda in pediatria. Quindi sono progetti appunto a favore della salute materno-infantile a 360 gradi. Quindi ci divideremo tra ospedale e tra cliniche mobili, quindi villaggi anche più periferici. Bene. Allora, Giussi, noi ti ringraziamo davvero di cuore per essere stata con noi. Ti auguriamo una buona missione in terra d'Africa. C'è tanto bisogno di solarità e di portare un po' di speranza. Ecco, penso e spero che tu stamattina attraverso la tua storia ci sia riuscita, anche per coloro i quali in qualche maniera sono alla ricerca di un senso nella propria vita. E la tua esperienza da questo punto di vista credo che possa essere molto molto utile. Grazie, grazie per essere stata con noi. Grazie, grazie a voi. Grazie, ringraziamo ancora la dottoressa Giussi Russo. Noi ci fermiamo per la pubblicità, pochi istanti di pausa e poi ancora insieme. Grazie. Grazie. Grazie.